Bentornati, bentornati a tutti in questi pagellazzi e tardivi che usciranno quest'oggi, martedì Scusate, ieri ho avuto una giornata super impegnata, non sono riuscito purtroppo a registrare E quindi ve li beccate oggi pagellazzi e sentenze Allora, ritorniamo un attimo su Suttirol e poi proiettiamoci subito alla prossima partita Che non ho idea contro chi sia, forse il Pisa? Non lo so, comunque una partita molto importante, o Pisa o Frosinone, non mi ricordo Poi c'è il Parma, comunque, insomma, partita veramente importante Torniamo solo su Suttirol un attimo per capire, per analizzare il tutto Allora, io, guardate, parlavo anche col mio allenatore di terza categoria, Beppe che saluto E ci dicevamo che effettivamente, cioè, è una squadra tignosa il Suttirol Però, era il ragionamento che facevo io, cioè, è una squadra tignosa, ma rognosa, brutta anche Perché, voglio dire, l'abbiamo vista, cioè, hanno fatto due tiri in porti in 90 minuti All'andata anche, non stavamo parlando di uno squadrone Ci hanno segnato il 95esimo, è una squadra che ha più culo che anima Però è un culo che va costruito Però, ragazzi, se questa squadra è terza in campionato Cioè, ci dobbiamo veramente martoriare i coglioni Da qui fino a fine anno comunque vada Perché veramente vuol dire che bastava pochissimo per essere lì con Genoa e Frosinone O quantomeno con il Suttirol Che voleva dire, fossimo stati come il Suttirol, come punti Voleva dire che Cagliari-Genua, quella partita lì, era veramente decisiva E quella partita lì era veramente una bolgia Stessa cosa Cagliari-Frosinone Partite che per ovvi motivi non saranno decisive, no? Non saranno decisive, chiaramente Perché ormai, voglio dire, il nostro destino è segnato Rispetto ad una situazione di play-off Perché si è fatto troppo male da inizio anno E questa è una riflessione doverosissima Cioè, smettiamola di dire Ah, la Serie A2 Ah, questo penso l'abbiamo capito più o meno tutti Il livello lo trovo veramente basso Di questa Serie B Ve lo dico molto sinceramente Squadre particolarmente forti Talenti particolarmente forti Non ne ho visti E a livello proprio di squadra, di rosa, nel complesso Voglio dire, ci sono veramente delle squadre Che fanno rabbrividire Ma anche tra le prime Ma anche tra le prime Ecco, paradossalmente Adesso non so se ci sarà il Pisa o il Frosinone Comunque, ci dovrebbe essere il Pisa Il Pisa, paradossalmente, è una di quelle Che ha la squadra forse migliore come interpreti, no? Interpreti di esperienza Misti a interpreti più di classe Che siamo andati a dare anche noi Perché Matteo Tramoni è uno degli interpreti principali E più forti E gliel'abbiamo dato noi Quindi anche qui dovessimo perdere Mazzata sui coglioni Comunque, andiamo ai Ai votazzi Votazzi, ho qui tutte le... Così non mi perdo nessuno E poi volevo dire anche due cosette Su una cosa che ho letto Comunque Radunovic Radunovic Voto Sette più anche Nel senso che È stato veramente Comunque la parata a fine primo tempo Decisivo e determinante In una partita in cui lui non ha toccato Né palla Né con i piedi Né con le mani Cioè essere così reattivo E pronto A differenza di Obert Che lì si fa saltare come un salame E riuscire A coprire lo specchio Rimanendo su In quel modo Quello è un gran portiere Quello è un gran portiere Conferma quello Che ci diciamo E che vi dico Da mesi ormai Ovvero Che qua abbiamo Un portiere davanti Che è già pronto Anche eventualmente Per la Serie A Poi I margini di crescita Ci sono ancora Assolutamente sì Ma è anche la sua prima Stagione da titolare In assoluto Perché poi anche Al Verona E gli altri posti Non è che fosse titolare Magari qualche partita Ogni tanto la giocava Ma Questa è la vera Stagione da protagonista Ha iniziato Tra i fischi Tra i In un momento particolare Per tutta la squadra E Io ho sempre provato A difenderlo Adesso sta emergendo Meno male Zappa E Zappa Purtroppo Quel braccio Poi l'abbiamo L'abbiamo rivisto Ve l'ho detto Un po' spartita È un braccio Che purtroppo Se uno tira Te lo becca Lì Io lo sapete Sui falli di mano Non dico quasi mai nulla A meno che non sia Proprio stupido Tipo Come d'Albert Gli altri anni Che a volte Figa La parava Quindi Zappa Ma a me è piaciuta La partita di Zappa È chiaro che quel rigore Poi un po' Deve condizionare il voto Gli do un 6 più Secondo me la partita di Zappa È più che sufficiente In generale Poi è chiaro Quella è una partita Che era un tre punti Importantissimi Molto pesanti Invece ne abbiamo fatto Solo uno Quindi mettiamo Mettiamo un 6 più Dossena Dossena Mi è molto Mi è molto piaciuto Gli darei un 6 al 7 Tiene bene fisicamente È veramente un bel difensore Sono molto contento Di avercelo E Bene Molto molto bene Dossena Che è sempre Sempre positivo Obert Obert Forse uno che Uno di quelli Che avrà Tra i voti più bassi Perché Voglio dire In una partita In cui la squadra È stata ottima Io non darò Un'insufficienza Tanto per iniziare Quindi anche ad Obert Però Quella dormita Che si fa lì Cioè tu devi capire Che la domenica Devi avere voglia di giocare Il sabato e la domenica Devi avere la voglia di giocare Se no non ti presentare Se no Prima della partita Fingi l'infortunio Dici Non c'ho voglia di giocare Non mi far giocare Mandami in tribuna Sto con le fighe a fianco Cioè perché se no Se devi stare in campo lì Per stare lì Ah Odogo Passa pure Non va bene Non va bene Non va bene Perché poi Se lì segna Non è un 6 Quello che ti vengo a dare Ma è un 4 Non un 4 Magari ma un 5 Perché una dormita Del genere Di un difensore Di 20 anni Non è ammissibile Non è tollerabile Ok Non è tollerabile Voto 6 Voto 6 Che sarà penso Il voto Il voto Più basso Azzi Ma Azzi Non ha fatto una partita Particolarmente Di Devasti Come al solito Rispetto a Barreca Insomma Non ne parliamo neanche Ah tra l'altro Poi al posto di Dossinare È entrato Falco Senza voto Non ha fatto nulla Azzi Voto 6 più 6 e mezzo No non granché Però Il solito Paolo Azzi Bravo Paolo Poi Nandez 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 ha giocato Molto bene Nandez ha giocato Molto bene È stato Molto presente Ha corso Veramente tanto E Lo vedo Fisicamente Anche pompato Sono Sono contento Di vederlo In forma È una presenza Importante Per i playoff Gli appunti Sono sempre i soliti Cioè Se io devo andare Come sempre A valutarlo Devo dire Che C'è una corsa Incredibile Devo dire Che Poi Nel momento In cui C'è C'è la sostanza Ogni tanto Si perde Cioè Fa La scelta Sbagliata Su dieci scelte Fa quella più Sbagliata Quella meno logica Comunque Fa anche Quel bel colpo di testa Che poi ci porta al gol È comunque una presenza Sempre all'interno Io gli do Un Un sette Poi Curfalidis Curfalidis Voto Sei più Perché comunque Entrato Con cattiveria Con Con voglia E con Con personalità Io Vi dico questa cosa Poi nel senso Adesso So già che Ci saranno rivolte Popolari Nei commenti Magari Io per me La formazione del Cagliari Titolare più forte Sarebbe il centrocampo Con Curfalidis Un play Decidete voi chi E Elella Per quanto mi riguarda Perché vi ripeto Io in Curfalidis Ho una fiducia E una stima immensa Nei suoi confronti E lo continuo a pensare E lo continuo a pensare Lui è una caratteristica Che non hanno gli altri Che è la botta da fuori Io lo so Cioè l'ho visto In primavera Fare dei gol Diversi gol Tirando dal limite Da fuori Che non fa un giocatore Che il tiro non ce l'ha Ok Quindi Insomma Vediamo Vediamo un po' Poi Macumbo Macumbo Allora Perché non l'avesse capito Perché Come sempre Devo spiegare Anche quando c'è sarcasmo Per fortuna Qualcuno me l'ha scritto E l'ha capito La prestazione di Macumbo Una prestazione buona Soprattutto nel primo tempo Ottima Nel secondo tempo Incalando Vabbè ma ci può stare Però Ripeto ancora una volta Cioè Parole di un certo tipo Con certi tipi di giocatori Che con la Masterclass Con i maghi Non c'entrano un cazzo Non le usiamo Ragazzi ma io Lo dico Lo dico Lo ripeto Lo dico No a me non me ne frega niente Di leggere Macumbo Masterclass Macumbo Magic O altre cose Io lo dico per il ragazzo Perché poi Guardate a Bari Gli insulti che si è beccato Ok Guardate la merda Che si è beccato a Bari Perché Perché siete voi A creare questo Gigantesco Misunderstanding Attorno alla figura Di Macumbo Macumbo È un giocatore Normalissimo È un giocatore Che non ti fa un lancio E gioca da regista Ma riuscite A capire il regista Il ruolo che c'ha C'è regista E regista C'è il nostro gioco Per come giochiamo noi Con Con gli inserimenti Dalle fasce Non è ammissibile Che un regista Non faccia un lancio A partita Ma E la precisione Dei passaggi Ma se fai solo passaggi Alla mezzala Che è un metro distante O il difensore centrale Che è un metro dietro O il terzino Che è due metri Di fianco Ma la precisione Di passaggi Ma ce l'ho anche io In quel caso Cioè ragazzi Cerchiamo di connettere Quando Quando scriviamo Certe cose Ma io veramente Non ce l'ho con nessuno Ma poi Il problema è che Macumbo Poi è stato bravissimo A riprendersi Ma dopo Bari Un altro giocatore Magari meno forte Mentalmente Cose Dopo che c'era stato Lo storytelling Si riceve quella merda Per forza Perché tutti pensavano Di avere un fenomeno Poi si rendono conto Che un giocatore Normalissimo Perché Macumbo È un buon giocatore Ma ripeto È un giocatore Assolutamente Nella media Nella media Nella media Non stiamo parlando Di un fenomeno Cioè Boh Non lo so Stiamo parlando di uno Che non lancia Non tira È un giocatore normale Un buon giocatore Per carità di Dio Voto Ma gli diamo anche sette Se volete La prestazione è stata buona Molto buona Una delle più positive Probabilmente Ma ripeto Non andiamo La masterclass Il mago Ma che mago Ma mago di cosa Ma io lo chiamerei mago Se mi facesse Un lancio illuminante A partita Di 40 metri Come dovrebbe Magari fare un regista Con i piedi Ma cumbo Guardate quanti lanci Fa partita O palloni Con distanza Di passaggio Di più di 10 metri Non ce ne sono Non ce ne sono Non ce ne sono E lo ripeto Questo discorso Lo faccio non per attaccare Il ragazzo Per difendere il ragazzo Perché il ragazzo Sta giocando in una posizione Non sua Ma se voi Continuate a incensarlo E si fa convincere L'ambiente Anche Ragneri Che lui possa fare il regista Se per grazia divina Dovessimo andare in serie A Buona fortuna Con macumbo Buona fortuna Buona fortuna Buona fortuna Lella Lella votosi al 7 Partita Come sempre Totale Lo ripeto Anche qui L'ho già detto in live Diverse volte Lella E per eccellenza La chiave tattica Di questo modulo Cioè io sono sicuro Che senza la presenza Di Lella In questo modulo qui Non sarebbe possibile Perché Lella è quello Che dà l'equilibrio Tra fase offensiva e difensiva Tutte le azioni offensive Del Cagliari Diventano pericolose Quando c'è Lella in area Il gol di La Padula Arriva non per caso Anche per merito di Lella Perché Lella è lì Si inserisce Distrae il difensore Che va a marcarlo E La Padula Poi ha tempo Di tirare Due o tre volte Quindi lui è veramente Veramente fondamentale E L'unica cosa L'appunto Che gli faccio E che Al sessantesimo Non puoi arrivare Con i crampi Quindi non capisco Se sia un fatto Del corre troppo Durante la partita Ma comunque Al sessantesimo Non puoi avere i crampi Al sessantesimo Non puoi avere i crampi O se sia un fatto Legato magari Ad un sovralenamento Durante la settimana Un particolare carico Eccessivo Che poi Ha avuto Ripercussioni Durante la partita Quindi cerchiamo di Anche qui Cerchiamo di Di fare le cose Sensate In settimana In partita Perché Lella E uno Che io Lo voglio avere Sino all'ottantesimo In campo Non sino al sessantesimo Ok De Iola Ma De Iola A me non è dispiaciuto Sinceramente Io Continuo a leggere Sentire Pareri negativi Brutte cose A me non è dispiaciuto Chiaro Non ha fatto nulla di che Un 6 più Gli diamo Però Sempre sento Ah no che schifo È entrato De Iola No il peggiorino Ma boh Io gli do un 6 più Non dico altro Mancosu Mancosu Voto 7 Peccato per il gol Ingiustamente annullato E Niente Lazzaro Cioè Dico Lazzaro Ragazzi Cosa volete che vi dica Cioè È un giocatore Che da un certo momento Contro Lascoli È diventato un fenomeno Speriamo Regga Speriamo di avercelo Ai playoff E ben venga L'Uvumbo Non mi ha fatto impazzire Ecco Forse qua ci potrebbe Stare l'insufficienza Oggi però Sono particolarmente buono Gli do 6 Non mi è particolarmente Piaciuto Il suo ingresso Prelec Prelec A me A mi gasa Prelec Mi gasa Posso dirvelo Sento il gol Nell'aria Di Prelec Arriverà prima Della fine della stagione Me lo sento I feel it Gli diamo un 6 Più Un 6 Più perché comunque Deve migliorare Perché comunque È molto acerbo Però Si sta facendo Si inizia a prendere Botte importanti Insomma Sponde Così Insomma A me non è Non è per niente Dispiaciuto Deve avere un po' più Di cattiveria Nel tirare Cioè Ogni tanto E' un po' lì Un moscione Mi sembra un po' Un moscione Nel momento in cui Acquisirà Siccome Acquisisci quella fiducia Nel momento in cui Inizia a segnare È bene Lui deve avercela Bisogna credere Bisogna fargli Sentire la fiducia Della squadra La fiducia La fiducia Da parte dei compagni La fiducia Da parte dell'allenatore Della società E di noi tifosi Perché ripeto E' un patrimonio Del Cagliari Predec E' un classe 2001 Mi sembra Di nostra proprietà Cioè Andate a cercarli Classi 2001 Di nostra proprietà E quante volte Ci abbiamo creduto Come titolari Quindi supportiamo Predec Poi se da qui A un anno Dovesse rivedarsi Un pacco Sarò io il primo a dirlo E dico Vabbè Questo c'è solo La carta identità Buona Per il resto Fa schifo Poi è entrato Altare Allora io Apriamo e chiudiamo L'ennesima parentesi Su Altare Allora Tolto che Continuo A pensare Che debba essere lui Il titolare Con Dossena Eventualmente Tolto questo Anche in una difesa 4 Penso che possa dare Più garanzie Anche vedendo In ottica playoff Rispetto ad Hobert Tolto questo Che ha Dei momenti Hobert Cioè veramente Dei momenti In cui non capisce più nulla Ma io mi chiedo Altare Ha fatto Cioè io voglio pagare Vi giuro Voglio pagare Per sapere Altare Cosa ha fatto I giornalisti Di Cagliari E io Guardate Tanto Vabbè ormai Si sa anche A chi mi riferisco Però Io faccio una premessa Su questi giornalisti Cioè io Tra l'altro Li seguo anche Fanno delle belle cose Hanno fatto un'intervista Con Lella Mi piacciono Anche I due ragazzi Soprattutto giovani Che fanno Dei bei contenuti Poi mi piace il fatto Che seguano comunque Tutte le realtà piccole Della Sardegna Fanno insomma Dei servizi Che non sono Finalizzati solo A visualizzazioni Perché Fare dei reportage Su Sulla serie D O sulla serie C Sarda Ha chiaramente Un ritorno Scarso Quindi queste cose Io le apprezzo Sempre moltissimo Però Scusatemi Cioè veramente Io vi leggo adesso Questa cosa Altare Cinque e mezzo Devi alzare il muro E lo fa Ma in occasione Del rigore subito Potrebbe chiudere Decisamente meglio Cioè Mi spiegate Cosa vuol dire Questa roba qui Che è stata scritta Cioè questa roba qui Ragazzi Mi dispiace Per me è un pretesto Per attaccarsi Ad altare Chi denota Nel merito Con altare Scarsa oggettività Ma come c'è sempre Stata Perché ragazzi C'è questa regola Non scritta Che sotto il 4 Non bisognerebbe Scendere con i voti No Soprattutto A livello di testate Giornalistiche Sin quando magari Lo faccio io Su un video youtube Da cazzone E un conto Ma quando si arriva A dare 3 A dei giocatori Cioè ragazzi Lì si arriva Ad intaccare la persona A volerlo umiliare A volerlo denigrare Di fronte ai tifosi E questo è stato fatto Ok In tempi non sospetti E ne abbiamo già parlato Io ripeto Continuo a non capire Questo volersi Attaccare Questo voler Questo atteggiamento Con Giorgio Altare Cioè 5 e mezzo Per che cosa C'è entrato Ha fatto Un 20 minuti Perfetti 5 e mezzo Durante il rigore Poteva chiudere Decisamente meglio Cioè cosa doveva Andare a placcare Zappa A dire Ah no Tieni la braccia Indietro Te la lego Io ragazzi Scusatemi Ma Ste cose Non le capirò mai Cioè cosa è successo Non ha voluto Fare un'intervista Vi ha insultato Non lo so Vorrei veramente Saperlo Sinceramente Saperlo Se c'è Un'antipatia Per qualche cosa Che è successa Che non è successa O se c'è qualcosa Di non detto Non lo so Cioè a me sembra Veramente assurdo Cioè io leggo Ste parole Deve alzare il muro E lo fa Ma in occasione Del rigore subito Potrebbe chiudere Decisamente meglio 5 e mezzo Cioè Boh Veramente Sono allibito Vabbè comunque La Padula Il gol che fa È il gol di La Padula Voto 7 e mezzo È Giocatore totale Ad oggi Ad oggi Giocatore totale E ripeto È da qui Perché io arrivo a criticarlo Nel cione d'andata Perché lui Io sapevo che lui potesse dare Questo E questo sta dando adesso E quindi Non lo andiamo E quindi Lo andiamo a premiare Con votazioni Molto alte E Devo dire Che al di là di tutto Io sapete Sul Capitano Sono sempre stato Molto dubbioso Però Se la sta comunque Guadagnando La fascia La sta onorando Alla grande Ed è una presenza Vera in campo Non è una presenza Alla Joe Pedro Per intenderci Poi Finale Ragneri Non lo so Guardate Con il senno di poi Si possono fare Tanti ragionamenti Il cambio modulo Troppo difensivo Non lo so Non voglio dire niente Date il voto voi A Ragneri Ok Un bacione Ciao a tutti Grazie